Anche Taranto, adesso a un giardino dei giusti, è stato inaugurato sullo splendido belvedere da troppi anni dimenticato che dalla discesa vasto si affaccia sul canale navigabile, un luogo dedicato alla memoria di coloro che spesso, senza essere passati alla storia, hanno lottato per la difesa della vita umana. Ideatrice del progetto Anna Maria Laneve, che ha parlato di un esempio, Vito Fiorino, originario di queste terre, giusto per aver salvato 47 naufraghi a Lampedusa. La cerimonia è stata animata dai giovani i violinisti del liceo Archita, ad accompagnare il sindaco, l'assessore comunale agli affari generali, Annalisa Adamo, presente per l'ufficio scolastico provinciale, Antonio Putignano. Dopo cinque anni questa vostra battaglia diventa realtà con l'accoglimento dell'idea da parte dell'amministrazione comunale, avete strappato una promessa che questo luogo possa tornare vivo con le scolaresche? Certamente, deve tornare vivo con le scolaresche perché il giardino dei giusti, mentre ricorda i giusti che si sono sacrificati ieri e oggi per la libertà, la democrazia e la pace, in realtà devono essere considerati punti di riferimento, esempi per i giovani e perché ciò possa avvenire noi dobbiamo rendere protagonisti i giovani. Averlo dedicato ai giusti di tutto il mondo, insomma in un anno così particolare, tra la pandemia, quello che sta accadendo in Terra Santa, quello che accade nel Mediterraneo ogni giorno, insomma è veramente molto più che simbolico.